Pronti ragazzi e ben ritrovati con DJ Slash Ragazzi oggi siamo qua con un nuovo video e siamo su Clash of Clans Ma no con un video di guerriglia, un video tra clan Ma oggi siamo qua con l'aggiornamento che hanno fatto pochi secondi fa In prima, un'ora fa ma erano i server bloccati per un'oretta Perché stavano aggiornando E ragazzi finalmente hanno messo il municipio all'11 Hanno messo un nuovo eroe Hanno rinforzato certe cose Cioè adesso vi faremo vedere piano piano E veramente ragazzi hanno fatto una cosa stupenda Hanno ampliato il nostro fortissimo campo di battaglia Perché comunque adesso Adesso avevano messo moltissime cose più Avevano messo il volano Avevano messo... non so, tante cose Hanno detto ma forse è troppo piccolo questo campo Mettiamone uno un pochino più grande E come dire ragazzi hanno bensì allargato Di due quadrattine Che comunque sembra molto di più E veramente ragazzi è un aggiornamento penso tra i più importanti Poi hanno messo il fottutissimo Nuovo municipio all'11 Che è veramente molto figo Io non ce l'ho perché c'è un gran muni al 9 Ragazzi adesso andremo a vedere qualche cosa Qualcosa di nuovo Ma è questo più importante Sono i nuovi in municipio Queste due tacche in più di spazio E abbiamo un nuovo eroe Abbiamo questo eroe qua Che adesso vi faccio vivere piano piano Con l'esercito avremo questo eroe Il gran sorvegliante Richiede al municipio livello 11 E veramente ragazzi Molto figo Nelle difese Troveremo L'artiglieria di acquila Che però adesso non posso Sbloccare L'unica cosa che l'hanno messo Che si sblocca solo E soltanto Con Il municipio A livello 11 Quindi per essere totalmente maxato E molto probabilmente Sarà una tra le cose più potenti Perché come potete vedere A 8000 Costa 8000 ragazzi WTF Nelle difese Diamo questo Hanno potenziato Determinate Come si chiamano Truppe Non mettendone una nuova Una più fia O qualcos'altro Ma hanno soltanto Potenziato Determinati livelli Inteso Lo sgherro Può essere Al 7000 E mi sembra che anche altri Possiamo dire Combattenti Sono Stati migliorati Poi ragazzi Hanno anche un pochino Migliorato La fluidità E hanno tolgo finalmente Sto Aggiornamento di Halloween Che è veramente Durato 5 milioni Di anni Ma una cosa Veramente importante Nel clan Adesso La possibilità Di Come te l'era Adesso si va Di un passo Di donare Fortunatamente Un Un incantesimo Adesso qua Sono in questo clan Qua Veramente Un aggiornamento Che si aspettavo Da anni Quindi cose più importanti Hanno allargato Il campo di battaglia Hanno contestato Delle truppe Hanno messo Il municipio A livello 11 Hanno messo Questo nuovo Erore E questa nuova Difesa Quindi ragazzi E anche questa Guarda Da anni Dj Slash Bara